Questo! Questo è il suo fattore! Quando sei arrivato, cosa ne pensi dell'accoglienza, del pubblico che ti ha ricevuto qua? Per me questo è il massimo che hai visto nella vita. Sei molto contento di tutti i tifosi che sei qua. Per me è la prima volta quando c'è un evento come questo, dove tutti arrivano, tutti sei contentissimi. Per me è la prima volta e sei molto contento per questa situazione. Il pubblico di Perugia è diverso dal pubblico russo? Sì, questo è il totale, 100%. Lui ha un'emozione grandissima e apporta per me tutta l'emozione, tanto come tifosi come kendosi. Mirka Francia è partita da Cuba e è diventata perugina. Tu pensi di diventare perugina? Sì, l'ha travagato molto nella mia transferenza a Perugia. Io sono molto contento e molto agradecito con Mirka perché ha fatto tutta la conversazione e mi ha posto in comunicazione con il presidente e con il club. Una domanda per uno, signor. Senti, secondo te è meglio vincere la Champions o il campionato? Per me tutto che posso vincere vuole lavorare per questo perché non c'è solo una cosa importante, tutto è importante. Per questo penso che prima cosa è il primo, secondo, secondo, che cosa è il secondo e dopo per terminare la temporada che cosa termina la temporada. e ancora c'è le vacanze ma quando pensiamo a lavorare pensiamo al primo gioco che è questo 6 o 7 d'ottobre. che cosa dobbiamo fare meglio con Bernardi come coach? Penso che ho molti elementi per essere migliore e voglio crescere. Per esempio, in recessione, in defensa. E se è possibile essere migliore per la spagna, non solo usare la potenza, usare più la parte tecnica, io lo farò fare. Quindi, lui darà a me tutto quello che sape, e dopo questo, tutti lo vedrà. Quindi, non posso aspettare per questo momento. Cosa ti dà a Perugia e cosa ti dà a Perugia? Cosa può dare a Perugia e cosa a Perugia può dare a te? Io posso dare a Perugia tutto che ha dato a Kazan e di più, perché ancora sono una squadra nuova per me. Per questo penso che, come sei stato qua a tutta la gente, mi ha brindato un'emozione molto grandissima. Io voglio dare questa emozione di volta, perché sei giocato un anno passato, tutto un livello altissimo, e io voglio dare questo livello più altissimo. per questo che... I think I will improve all that I have in my hands to try to win all the tournament that will be in front of my hands. Quando andrai a pescare il Presidente? Ti siete già organizzati? Quando ritorni la prossima volta ando con il Presidente di Pescara. Dove? Dove? Al Trasimento. Dove andate? Donde lui mi parla? Mi piace molto andare in Brasile adesso, perché in Brasile, come dicevo lui, io ho pescato due metri e dodici centimetri di Piraiba in Amazzonia, nel rio Araguaia, che è vicino al rio Araguaia e vicino all'Amazzonia, al sud dell'Amazzonia, e abbiamo tanti bei laghi. Sul lago Trasimeno penso che sia il posto migliore per andare, nel lago qui vicino a casa.